Segnali incoraggianti da imprenditori pesaresi capaci di rinnovarsi e ampliarsi. Rossini TV ha seguito nel weekend il doppio taglio del nastro di due nuove sedi per altrettante aziende capaci di guardare al futuro. Attività profondamente diverse quelle di Fisioradi e Tomassi Galanti, ma comunate da un cambio di passo impreditoriale verso nuove sfide. Quel cambio di passo che il Fisioradi Medical Center ha impresso al suo connubio di sport e medicina inaugurando sabato l'avveniristica nuova sede in zona Vismara. È aumentata l'esperienza, la professionalità, sono cambiati i tempi e questo in certi momenti lo devi cercare di capire. Capire che non potevi più lavorare come lavoravi dieci anni prima o come lavoravi quando potevi esercitare la propria professione. in un piccolo studio come avevo iniziato prima ancora di Fisioradi Center. Oggi siamo qua ma la sfida ancora deve iniziare perché la sfida sarà dall'UDD riuscire a far capire alle persone quello che vogliamo dare. Vogliamo dare dei percorsi terapeutici, vogliamo iniziare a far capire che la sanità del futuro è diversa dalla sanità del passato ma anche dalla sanità del presente. Da Vismara alla Torraccia, 24 ore prima di Fisioradi, Rossini TV ha seguito anche il taglio del nastro della nuova sede del brand di cucine Tomassi Galanti. Oltre mezzo secolo di una tradizione imprenditoriale che da Talacchio si sposta ora a Pesaro in via Cassiani con una nuova fabbrica a Sartoria in un filo diretto fra showroom e area di produzione. Il mio nonno iniziò 60 anni fa, ormai più di 60 anni fa, a fare mobili con sega, martello, chiodi e viti. Ora tutto cambia ma sempre con l'ottica del falegname. Ora disegniamo tutto in 3D, quindi quello che disegniamo al computer poi va in produzione. Tutto è possibile grazie a delle conoscenze anche poi di montaggio perché non solo quello che poi costruisce al computer nella realtà si coniuga perfettamente ma sono necessarie delle conoscenze del prodotto, dei metodi di costruzione, di come risponde il legno, il materiale, le varie tipi di ferramenta. Io e mio fratello con la terza generazione abbiamo appunto voluto richiamare i valori del passato, quindi far capire che la famiglia veramente ci tiene a rilanciare l'azienda come immagine, come linea di produzione e anche come logo. Quindi abbiamo richiamato i due cognomi, quindi l'insieme del nostro cognome e in più questo leone con questa corona in cui il grafico ha stilizzato ma alla fine è il sunto del nostro blasone familiare che è ricreato in chiave moderna da questo secondo noi aspetto di importanza perché comunque il nostro è un prodotto importante di qualità e richiama le radici, quindi i valori veri. Grazie